Un aggiornamento settimanale sulle condizioni cliniche, gli infortuni muscolotendini prevalentemente lievi sono stati recuperati completamente, mi riferisco all'infortunio di Gilardino, Bulan era già rientrato in gruppo, ma anche Vargas ha recuperato l'infortunio all'adduttore e anche se in Estremis oggi anche Bolatti si è aggregato al gruppo. Chiaro, valuteremo nell'allenamento di Urbani la risposta sul campo, l'allenatore farà la sua valutazione, però dal punto di vista della stabilità del muscolo c'è stato un buon esito con il recupero completo del problema muscolare. Si è invece fermato Zanetti per un problema di sovraccarico al ginocchio con un'infiammazione al tendine rotulio e pertanto lui non è disponibile per la gara di domenica. Per quanto riguarda gli infortuni di tipo cronico, più che la pronuncia, cioè la rapidità di ritorno all'attività agonistica è importante la qualità del recupero, quindi l'aggiornamento va di pari passo non solo sui tempi di recupero ma sulle condizioni cliniche. Mi riferisco a Jovetic, dove l'infortunio, il secondo intervento chirurgico è andato bene e tra l'altro in sede artroscopica ha permesso di confermare la corretta guarigione del menisco esterno che era stato sotturato e non tolto. Adesso sta facendo la reabitazione in Germania, prosegue la reabitazione e i tempi sono quelli dettati dal chirurgo sull'ordine dei sei mesi. Sempre per un'infortunio di tipo cronico e da sovraccarico, l'aggiornamento su D'Agostino ha evidenziato un recupero ottimale della forza muscolare. Infatti è iniziata la seconda fase di abitazione in cui i carichi di lavoro sul campo contro la forza di gravità vengono proposti ed è ancora in una fase di monitoraggio, quindi è difficile fare una previsione specifica e precisa sul rientro agonistico, però stiamo iniziando la riatalizzazione e il ritorno all'attività fisica specifica, sport specifica. Un aggiornamento anche su Montolivo, è stato sottoposto una visita specialistica al professor Van Dijk, olandese, che è illuminare assoluto sulle patologie di caviglia di piede, il quale ha confermato la corretta scelta di tipo conservativo attuale. Abbiamo sfruttato infatti la squalifica del giocatore per dispensarlo da carichi gravitazionali facendo un lavoro più fisioterapico, antinfiammatorio per permettere il recupero dell'infiammazione alla capsula articolare stessa. Verrà ovviamente monitorato nelle prossime settimane, però sta migliorando, il quadro è positivo.